Una valutazione positiva di un'azienda che sta funzionando, che funziona bene, che è un importante elemento di presenza nel territorio e che dà una risposta importante ai bisogni del territorio. Fernando Antonio Compostella, direttore generale dell'Ulss3, traccia il bilancio di un anno di attività e lo fa in occasione della conferenza dei servizi che si è svolta stamattina in ospedale, ma la vera sfida riguarda il 2014 con l'entrata a regime delle nuove schede sanitarie. Dovrà essere declinata nel pratico la nuova programmazione sanitaria regionale, sia per quanto riguarda le schede ospedaliere, sia per quanto riguarda la parte territoriale. Quindi un impegno importante, serio, che cambierà anche alcuni aspetti dell'organizzazione attuale. L'incontro di oggi è stata l'occasione anche per un confronto con le associazioni di volontariato che hanno presentato le principali criticità e priorità di miglioramento dei servizi. Le criticità sono legate alla riorganizzazione dei servizi con le schede ospedaliere e quindi seguiremo in questo prossimo anno molto attentamente tutte queste problematiche.